Per ogni nome adesso un grande boato, con il numero 31 Alessio Parente, con il numero 31 Canopero Simone, con il numero 2 Nicola Parapetti, con il numero 12, con il numero 24, il capitano della nazionale delle poste italiane, Giuseppe Toscano, Fusero, Lucatoni, Massimo Oddo, Luigi Di Biazzi, con il numero 25 Angelo Traversi, con il numero 1 Matteo Di Biazzi, con il numero 32, un trentino toc, già giocatore del calcio a Trento, Michele Ferranis, con il numero 16 Sabratone Maria Nicolosi, con il numero 33 Simone Petrucciolo, con il numero 34 Emanuele Barone, con il numero 30 Marco Zimaro, l'allenatore, un altro delle grandi leggende del calcio italiano è Angelo Di Biazzi, per il festival Legends, non si sente, per il festival di calcio italiano è Angelo Di Biazzi, con il numero 1 Nelson Petrucciolo, con il numero 1 Nelson Petrucciolo, con il numero 6 il capitano delle legends, Los Santos Aldair, con il numero 15 il vice capitano Andrea Barsagli, con il numero 4 Angelo Termone, con il numero 22 Massimo 8, con il numero 8, con il numero 3 Cristian Parucci, con il numero 2 Cristian Zaccato, con il numero 17 Simone Barone, con il numero 14 Luigi Gigi Di Diaggio, con il numero 7 Pietro Fuser, con il numero 8 Dario Marcolin, con il numero 5 Davida Pisano, con il numero 5 Davida Pisano, con il numero 27 Claudio Serrancino, con il numero 27 Claudio Serrancino, con il numero 77 Cristian Zinoni, con il numero 9 Luca Toni, tutto pronto per il inizio della grande partita, da parte di animale Soporto, Poste Italiane, Comunque di Franco, Trentino Marketing e Polizia Toma di Franco, un bellissimo augurio di splendida partita! Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti.